Sono Luciano Scamuffo, sono l'amministratore della Citi SRL di Guardia Grele, ci occupiamo di impiantistica in generale, progettazione e realizzazione di impianti dal piccolo impianto fino a grossi impianti per riscaldamento, condizionamento e quanto altro. Siamo un'azienda, siamo 13 persone in tutto a lavorare, abbiamo un ufficio, uno staff tecnico. Qui ci troviamo in la cantina di azienda agricola Masciarelli di San Martino sulla Marruccina, in cui abbiamo messo delle macchine Robur per raffreddare la produzione del mosto. La scelta ponderante che abbiamo fatto per queste macchine è stata in modo particolare il fatto della mancanza di approvvigionamento di corrente elettrica e quindi abbiamo optato per queste macchine a gas. Nello stesso tempo abbiamo anche pensato che in questo modo andavamo a risparmiare sulle quote fisse dell'Enel e quindi sicuramente potrebbe essere vantaggioso. Abbiamo scelto di fare degli impianti modulari in modo che sono tre gruppi che abbiamo montato in modo che nel momento di bisogno eccessivo funzionano tutte e tre oppure funzionano due, uno si lascia per la manutenzione oppure per eventuali riparazioni che può succedere, per assicurare un servizio o una produzione costante nei momenti di punta, nei periodi di punta della raccolta. Mi occupo di tutta la vinificazione e la preparazione e stabilizzazione dei vini prima dell'imbottigliamento. La nostra cantina si trova a San Martino sulla Marruccina, questa qui è la sede principale dove c'è anche l'imbottigliamento. Poi abbiamo altre due aziende, una nel Terramano dove si fa solo vinificazione di rossi e un'altra Norrito Prutino, anche essa con vinificazione di rossi. La nostra produzione annua è di circa 2 milioni di bottiglie. Il vino che va per la maggiore è il Montepulciano classico che esportiamo in tutto il mondo, sia in America, Giappone, tutto il nord Europa, dappertutto. Alcuni rossi passano in barrique, tipo il Montepulciano Marina Svetich, il Villa Gemma Rosso, l'Iscra, il Merlot Marina Svetich, il Cabernet, tutti questi vini della linea Svetich vengono tutti passati in barrique. Per la vinificazione usiamo le macchine Robur per il controllo della temperatura, diciamo. Facciamo circolare i glicole a circa 0 gradi intorno ai Sirius vinificatori, così riusciamo a controllare la temperatura del mosto, usando dei programmi su un PC che aprono e chiudono i bypass dell'impianto e del glicole, così ci regge la temperatura che noi impostiamo dall'inizio alla fine fermentazione. Saranno 5-6 anni che abbiamo queste macchine montate, vanno divinamente bene, la commettente è soddisfatta, noi io pure come progettista e come realizzatore, come impiantista siamo veramente soddisfatti. Abbiamo avuto qualche problema iniziale, però dopo la roba è intervenuta tempestivamente, ha risolto i problemi e da allora non ha dato più fastidio, quindi le macchine sono affidabilissime, almeno per quel che ci riguarda sono affidabilissime. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.